Musica Buongiorno! Buongiorno a voi! Oh buongiorno, vedo che se vi siete svegliati Io stamattina mi sono svegliato al canto suave degli uccellini Ma a proposito, cosa volete per colazione? E' importante una colazione ricca ed equilibrata Per fornire tutti gli elementi e le forze necessarie Per affrontare la nostra giornata Io un po' di yogurt con i cereali, grazie Maestro! Dimmi cara! C'è un uomo al quanto strano che si sta dirigendo verso di noi Ciao, sono Claudio Stecchetto Ho un problema Mi hanno detto di venire da voi Prego, hai fatto bene a venire da noi Spiegaci come possiamo aiutarti Allora Ma questi sono spartiti? E' il testo della mia canzone Sei un cantante allora? Già, mi sto cimentando nello scrivere dei testi Questa che sto scrivendo si chiama GiocaGioe E consiste nell'abbinare parole e gesti Come per esempio camminare Superman Però me ne manca una Ho cercato per Mario Monti ma non l'ho trovata Beh, faccela sentire e vedremo come aiutarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dormire! Bella mi piace, secondo me dove non so cosa mettere Io direi mungere A me piace il latte e piace a tutti Mungere Non si può rappresentare mungere Ci vuole una parola più d'effetto Non lo so Scrivere Pensare No, pensare no Volare O mangiare magari No, ce l'avevo già pensato Ma non mi convincono Ci vogliono parole più allegre per la mia canzone Mi sa che il nostro amico ha bisogno di una parola Quotidiana Ma allo stesso tempo Allegra e ballabile Come? Bere Tutti bevono ogni giorno Mangiare Tutti devono mangiare per vivere Sto pensando una parola che voi tutte usate ogni dì Per esempio Cosa abbiamo fatto prima che arrivasse il nostro amico bisognoso d'aiuto? Mangiato No, 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 no Svegliarsi? Ma no! La parola che pensavo io è salutare Questa mattina appena ci siamo svegliati E appena abbiamo incontrato il nostro nuovo amico Ci siamo salutati tra noi Tutti si salutano Non solo perché è buona educazione Ma anche perché cominciare la giornata con un bel buongiorno Metti in allegria E allora Claudio Ti piace questa parola? Già Salutare è proprio quella che cercavo È quotidiana, è ballabile, è allegra Ora so come concludere la mia canzone E tutto questo grazie a voi Senza di voi non ce l'avrei mai fatta Bene, spero di poterla sentire presto la tua canzone sulla radio Sì, perché poi ballare e cantare aiutano a alleviare le preoccupazioni E ormai non ci resta solamente più che dire Buon giorno Buon giorno Buon giorno Buon giorno Buon giorno